Ciao a tutti. Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il contratto per il governo del cambiamento e sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla fine siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale. Un contratto di governo che vincola due forze politiche che sono e rimangono alternative a rispettare e fare quanto hanno promesso i cittadini. Sono davvero felice perché in questo contratto non ci sono solo delle proposte, non c'è solo un'idea di paese, non ci sono solo le nostre battaglie storiche. In questo contratto ci sono le persone che ho incontrato in campagna elettorale, c'è la qualità della vita delle mamme che lavorano, ci sono i giovani della mia generazione che pensano al futuro, ci sono le famiglie in difficoltà, ci sono i lavoratori che hanno diritto a un salario dignitoso, gli insegnanti vittime di una riforma scelerata, gli italiani che sono emigrati all'estero, ci sono gli anziani che mantengono intere famiglie con la propria pensione, ci sono gli imprenditori che fanno grande il Made in Italy, ci sono le forze dell'ordine che tutelano la nostra sicurezza, ci sono i pescatori, ci sono le vittime di reati di violenza che non devono essere lasciati soli dallo Stato. Ci sono gli italiani in questo contratto, ci sono io in quanto cittadino italiano, ci sei tu qui dentro. Leggi questo contratto e sentiti parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così com'era. E sentiti orgogliosamente italiano oggi, perché una nuova era sta per cominciare. La cosa più bella è che ognuno di voi, come me, oggi possa dire io sono nel contratto. Per tutta la giornata di oggi saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento. Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrata a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del Movimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento. Adesso è il vostro momento. Abbiamo lavorato più di 70 giorni per arrivare fino a qui e proporre quanto tutti insieme abbiamo detto in campagna elettorale. Poi questo weekend i nostri attivisti, i nostri iscritti, i nostri portavoce saranno nelle piazze di tutta Italia per far conoscere i contenuti di questo contratto. Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto e ringrazio ognuno di voi per essermi stato vicino. in questi mesi. Ringrazio tutti i nostri che hanno preso parte al tavolo, che in questa settimana in tempi record ha redatto questo contratto. Alfonso Bonafede, Laura Castelli, Giulia Grillo, Vincenzo Spadafora, Danilo Toninelli, Daniel De Vito, Tommaso Donati e Rocco Casalino. Volevo nominarveli uno ad uno e ringrazio anche la delegazione della Lega. Ringrazio gli attivisti che non si sono mai fermati e anche grazie a voi e alla vostra tenacia se oggi siamo qui e sarà grazie a voi se cambieremo l'Italia. Vi abbraccio forte, ciao!